Musica Debutto assoluto a Napoli al Museo Aragona Pignatelli Cortez per Albino e Plautilla, intermezzo buffo di Leonardo Vinci per la drammaturgia e la regina di Angela Di Maso con Massimo Finelli, Gaia Petrone, José Povedano Ruiz, Bruno Leone e l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano De Micheli. Una produzione della Fondazione Pietà dei Turchini che con questo allestimento rinnova il suo impegno rivolto alla valorizzazione e alla riscoperta del repertorio musicale di scuola napoletana. Con i costumi di Giussi Giustino, luce e suono di Francesco D'Antuono e la consulenza musicologica di Paolo Giovanni Maione, Albino e Plautilla è stata presentata nell'ambito del convegno internazionale Napoli e Venezia nel 700, due capitali dello spettacolo. Albino e Plautilla sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci pone tra gli alti della tragedia Silla Dittatore, rappresentata in prima esecuzione assoluta il primo novembre del 1723 al Palazzo Reale di Napoli. Dall'analisi della partitura originale di Vinci, ritenuto tra i massimi esponenti della scuola musicale napoletana, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia, in cui è lo stesso compositore diventato personaggio, interpretato dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e ancora di più della sua misteriosa morte. Il maestro Stefano De Micheli e la regista Angela Di Maso. È una mini opera, una mini opera breve, buffa, che era una pratica molto in uso nel 700, dove appunto andare a teatro aveva un significato differente di quello che può avere oggi. Noi l'abbiamo per il pubblico moderno ricomposto, ovviamente per far godere la drammaturgia, e proposto in questa forma un po' particolare. La drammaturgia nasce da un'analisi profonda della partitura e del libretto e ho pensato di sposare quella che era appunto la parte musicale con la parte drammaturgica, quindi offrendo allo spettatore non soltanto un concerto, ma un vero e proprio spettacolo in cui ci fosse questo sposalizio totale tra musica e teatro, idoni a questo punto a fare in modo che lo spettatore possa meglio apprezzare quella che era l'epoca del 700 musicale napoletano.